Musica In conferenza stampa con Alessandro Longhi, difensore dell'audace Cerignola, è l'ultimo arrivato in casa gialloblu, domenica subito esordio per te, un buon esordio, peccato che sia mancato il risultato. Sì, è mancato solamente il risultato, io ho visto una prestazione positiva da parte di tutti e penso che in questo momento, vedendo il clima che c'è, bisogna solamente stare tranquilli perché i risultati non possono non arrivare con la qualità e il gruppo che ho trovato in questa squadra. Ecco che squadra hai trovato, che città hai trovato, che società hai trovato in considerazione del fatto che sei stato sin da solito un pallino del club gialloblu. No, sinceramente non mi aspettavo una società così, in Serie D, sono contento, mi sto adattando trovando bene da subito e niente, dobbiamo solamente, secondo me, cercare di stare tranquilli che la qualità c'è, siamo forti. La Gelbison, e mi riferisco al prossimo avversario, è la migliore difesa del campionato, d'Italia e forse anche d'Europa, con quel trend che sta conservando, bisogna infrangerlo necessariamente. come ci si comporta rispetto ad una squadra così ben messa in classifica e che fa della difesa sicuramente il suo punto forte? Ma in questi giorni il mister e tutto il suo staff hanno lavorato molto bene, ci hanno fatto lavorare bene, ci hanno trasmesso tutte le cose per sfondare questa difesa. Ecco, tornando alla gara di domenica, cosa bisogna fare di più, e te lo chiedo sulla base di quanto visto domenica a Sorrento, su una squadra che c'è, il cui gruppo è sano e solido, è stato rimarcato in più circostanze questa settimana? Il gruppo è sicuramente solido, perché non mi aspettavo un gruppo così, bisogna sicuramente qualcosa in più lo dobbiamo fare tutti, dal primo all'ultimo e cercare di stare tranquilli quando magari si subisce gol, non andare nel panico, cercare di gestire meglio certi episodi. Quindi la gestione delle difficoltà? Sì, sicuramente, la gestione degli episodi, che in questo momento girano tutti a sfavore, ma da domenica li dobbiamo far girare a nostro favore. Grazie ad Alessandro Longhi, in bocca al lupo per questa tua esperienza. Grazie. Grazie.